Siamo arrivati a un altro brano invece che è un brano dedicato un po' a tutte le donne, non c'è un tipo di donna a cui facciamo riferimento particolare perché infatti la serenata è un donno di estrema passionalità e intensità per ogni donna, ormai un po' fuori moda antiquata ha avuto nei paesi mediterranei il proprio apice, non poteva mancare infatti un esempio di questo tipo di musica nel concerto di oggi. Prendiamo come esempio la più romantica e struggente serenata mai scritta, oltre che quella più famosa, la melodia del secondo concerto, del secondo tempo del concerto da Ranquez del compositore spagnolo Joaquin Rodrigo affermatosi nel secondo dopoguerra. Composto originariamente per pitare l'orchestra, vi proponiamo invece il brano con la tromba solista di Gianfranco Meraviglia. Prego Max. Grazie. 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 Grazie.